Cancro, bilancia, riete e capricorno nelle prossime due settimane saranno inondati da una dose di potenza estrema mi raccomando guardate il video fino in fondo perché vado a sottolineare i punti cruciali appunto di queste due settimane per questi quattro seni che andranno letteralmente a sconvolgere la loro vita tutti e quattro i seni zodiacali che ho citato avranno l'opportunità di manipolare la loro realtà a loro piacimento e non soltanto anche le menti delle persone di fatto avranno una grandissima caratteristica che li accomunerà la voglia di raggiungere il successo più degli altri e questo ahimè come si suol dire macchiavellicamente parlando che il fine giustifica i mezzi e purtroppo potrebbe nascere una sorta di negatività mentale che però in realtà è propositiva appunto per i loro fini sporchi ma potrebbe portarli a fare qualcosa di buono questa situazione mentale che è tendente alla negatività ma altresì alla propositività è dovuta alla congiunzione che si crea tra il sole e Plutone e come ben sapete ragazzi Plutone essendo un pianeta molto distante, molto oscuro cosa che io cito particolarmente poco anche perché non è dal mio punto di vista una cosa che mi fa piacere tramandare come messaggio però io lo chiamo il pianeta della morte diciamo che questo genera che cosa nella mente di chi ne è affetto soprattutto quando è in congiunzione col sole genera una voglia diciamo di scavare a fondo nella realtà nel capire che cosa si nasconde e quali sono effettivamente i trucchi no? come quando uno gioca ad un videogame e vuole scovare il modo per farcela, per vincere sempre e questi trucchi una volta che li scopri non li dici al prossimo e li utilizzi diciamo un po' a tuo comodo ovviamente con un tempo limitato perché prima o poi comunque questi trucchi verranno bloccati e di fatto verranno bloccati quando non sarà più in congiunzione il sole con Plutone la maggior parte inoltre di questi segni sarà anche particolarmente proiettato a fingersi anche bisognosi di aiuto da parte del prossimo saranno anche abbastanza delle vittime che utilizzeranno appunto questo aspetto per manipolare la mente delle persone che appunto ne saranno influenzate da questo loro senso di vittimismo e fondamentalmente in realtà è un altro dei mezzi che utilizzeranno per raggiungere ciò che vogliono bisognerà sì quindi stare molto attenti a questi quattro segni soprattutto stare attenti quando iniziano a chiedervi delle cose che non sono usuali cioè che iniziano a farvi delle proposte che sono inabituali fondamentalmente posso farvi un esempio avendo parlato del cancro se il cancro di punto in bianco potrebbe farvi capire che ha bisogno di viaggiare ha bisogno di fare qualcosa per staccare in realtà sta confabulando qualcosa perché il cancro sappiamo bene che in un periodo come questo tutto vuole tranne che viaggiare o meglio magari lo vorrebbe ma se non è pianificato non lo fa lui improvvisamente come anche per il capricorno il capricorno quando è che ti dà un segnale che magari ti fa capire che sta tramando qualcosa alle spalle parlando di amore fondamentalmente capricorno magari è fidanzato e non ce n'ha più voglia di stare insieme a te ecco si può inventare la balla di turno per poter uscirsene con gli amici quando in realtà potrebbe fare qualcos'altro magari qualcosa di più sporco avete capito il senso ebbene anche per gli altri segni che ho citato come appunto la rieta e la bilancia cose che potrebbero nascere nella loro mente a discapito di ciò che in realtà è un loro fine sporco è probabilmente anche il parlarti alle spalle il fatto di parlare alle spalle potrebbe nascere da un litigio per cui se avete litigato con questi segni io quello che vi consiglio magari è di chiarire sin da subito con loro e di non andare ad alimentare la fiamma di astio che si è chiarata fra voi non a caso questi sono dei grandissimi oratori la riete quando inizia a parlare nonostante non pensi troppo alle parole che dice diciamo che riesce a raggiungere l'obiettivo ovvero farsi capire per non parlare della bilancia che al contrario è in grado di parlare molto bene è un'abile oratrice o oratore e soprattutto la bilancia è una persona che sa realmente dove colpire nel segno se vuole farti del male diciamo che è una delle più indicate tra i segni zodiacali a farti del male tutto sommato quindi questi segni qua avranno una potenza immane che li travolgerà una potenza dettata principalmente anche da questo transito di sole in acquario che come ben sapete dal 21 di febbraio potrebbe portare a tutti noi un senso di ribellione di rivolta nei confronti del mondo per non parlare anche di plutone che se ne va in acquario no il giorno dopo quindi diciamo che ragazzi questa congiunzione tra sole in acquario che viene a crearsi e influenzata da un buon acquario che come ben sapete quest'anno qui è tutto tranne che tranquillo è abbastanza fomentato è abbastanza turbolento genererà nella mente di questi quattro segni principalmente in tutte le sezioni del loro tema natale delle loro vite una voglia particolare di riuscire ad ottenere quello che vuole quello che vogliono in breve tempo saranno due settimane di fuoco quindi saranno due settimane in cui bisognerà stare molto attenti dovrete realmente guardarvi alle spalle se in mezzo alla vostra vita ci sono questi segni se li avete come colleghi se ne avete a che fare anche perché semplicemente sono amici che incontrate una volta a settimana nel weekend state molto attenti tutto ciò che sono le occasioni che gli capitano per poter trarre beneficio a loro pro è un'occasione buona per poter diciamo demonizzare l'altro è stato d'animo diciamo per stare meglio loro quindi signori miei spero che questo video vi sia piaciuto spero vivamente che qualcuno sia in grado di prevenire il danno quindi piuttosto che ritrovarsi con la testa fasciata magari mi viene a ringraziare in questo video dicendomi che se non ci fossi stato io probabilmente l'avrebbe presa under posto quindi detto ciò ragazzi spero che vi sia piaciuto anche questa pillola di video relativamente rapida ma sicuramente molto molto incisiva pre potente fatemi sapere realmente ve lo chiedo se questo genere di video che non so durerà massimo 5-6 minuti vi possono piacere ma non perché di fatto mi trovo bene a fare video corti ma perché voglio probabilmente dare anche alle persone che non hanno tempo di vedere magari un video di 50 minuti che di solito li faccio molto lunghi di capire subito il messaggio e come ben vedete cerco di velocizzare probabilmente sembrò anche più innaturale nel parlare perché a me piace anche parlare in un modo più lento riflessivo ragionato e quant'altro però devo dire che posso rispettare il volere di qualcuno che magari mi chiede di essere più rapido quindi signori me se vi fa piacere anche se non vi fa piacere io qualche video così lo pubblicherò solo per il gusto appunto di rendere felici anche le altre persone non posso fare diciamo le preferenze di tutti no però cerco di rendere felici un po' tutti quanti eccoci qua ciao